Salve, io sono Castorino, io mi sono stufato che la gente viene sempre a vedermi, guarda il Castorino lì, guarda il Castorino là, bellino il Castorino che mangia, guarda carino il Castorino che fa sull'alberino, Castorino un cazzo, a me mi avete rotto le palle e ora faccio un'imboscata ad alcuni ragazzi. Gli farò credere che esco con dei Tacos e invece aggredirò il bambino, loro, mangiandogli un orecchio, ci vediamo dopo, ciao. Attenzione siamo a Central Park, qui è pieno di scoiattoli, castori, cricetini, tutte, eccone che arriva uno, eccone, ora facciamo uno zoom sulla nocciolina, ecco un Castorino avvicinarsi, oddio bellino, bellino, bellino. Che mangiano, vedete, con i campetti, lasciamo, lasciamo, le ho via, lascio, le ho via, lascio, le ho via. Guardate quello là sotto, fa qualcosa che sta venendo fuori. No, prima c'era quella pariola, l'ha tirato di qua, l'ha tirato di qua, l'ha tirato di qua. Ti ha tirato? L'ha tirato di qua. Da me esce fuori una pantecana, perché lì c'è un buro. E' il conile, guarda. Guarda che ha fatto la doccia, ma non le frega così da. All'animalino, quando ha fatto la doccia, non sapevo che era buffo. No, no, lascio, lascio il caretto. E anche che era grosso. Parla anche, come dei cartoni animali, e parla. E' un cartone, coco ricco, coco bongo si dice. Vuole andare a coco bongo, via, si deve portare l'animalino a coco bongo. Per chi non lo sapesse, coco bongo all night. Bambino, vieni qui. No, bambino. No, vieni qui. Hai tirato là. Hai anche le patate. Oh no. Avevate riconosciuto? No, no.